Matteo Salvini, oggi è un'altra tappa del Basta Euro Tour, la battaglia contro l'euro diventa anche internazionale? Sì, più che contro l'euro, l'euro è una moneta finita, sbagliata, morta, quindi stiamo lavorando, e ci pagano per questo, per offrire agli italiani il dopo, cosa c'è dopo, quindi per garantire i mutui, i risparmi, le pensioni, quindi questo euro sta portando a disoccupazione, faccio l'esempio dei pensionati, chi lavora paga la pensione al pensionato di domani, la disoccupazione mette a rischio anche le pensioni, quindi stiamo lavorando con professori, con economisti, con imprenditori per capire cosa succede il giorno dopo, per preparare un'uscita di sicurezza, una scialuppa di salvataggio, e lo stiamo facendo da soli politicamente come Lega, ma con tanta gente che ci sta dando una mano in tutta Europa, e quindi stiamo preparando il giorno dopo per mettere in sicurezza i risparmi, senza l'euro riparte il lavoro e salviamo i risparmi, e spiegheremo perché nelle prossime tappe. Martedì incontrerà Marine Le Pen, cosa discuterete? Di euro sicuramente, ma di immigrazione, stiamo subendo un'invasione senza precedenti, il governo Renzi e Alfano dorme, anzi li vanno a prendere in mezzo al mare, c'è l'operazione Mare Nostrum che costa 300 mila euro al giorno, che agevola l'invasione, e quindi proveremo a sfiduciare Alfano, chiederemo di sospendere questa folla iniziativa, il mare Lorum, siamo gli unici che usano l'esercito per andarli a prendere, e non per difendere i confini, e con Marine Le Pen penseremo a un'Europa che difende i suoi cittadini, non che si lascia invadere. Esiste un'allarme Ebola per l'Italia? L'Ebola no, gli infettivologi dicono che è circoscritto il Centrafrica, e quindi bisogna intervenire là, e tante associazioni medici stanno già lavorando meritoriamente. La tubercolosi purtroppo sì è tornata, è tornata pesantemente, era stata debellata e questo è un rischio da controllare, anche perché le migliaia di sedicenti profughi che stanno smistando in tutto il nord non hanno alcun tipo di controllo sanitario, quindi per Bergamo, per Belluno, per Genova, per Brescia, sta girando gente di cui non sappiamo nulla, che rischia di essere una bomba umana. Grillo improvvisamente si scopre secessionista, ha detto che appoggerà i secessionisti veneti, cosa? Meglio tardi che mai, se tutti adesso inseguono e copiano la Lega, vuol dire che le nostre idee, sia in economia che in termini di indipendenza, sono valide, quindi non sono geloso delle buone idee, però Grillo passi dalle parole ai fatti, quindi sostenga le iniziative per l'indipendenza o per l'autonomia, sia in Lombardia che in Veneto che in Piemonte. Renzi ha detto no a idee di destra in Europa. Renzi non ha idee, Renzi è il vuoto che sorride, il sorriso fa sempre piacere, però qua abbiamo una disoccupazione che non ha precedenti nella storia d'Italia, quindi Renzi è un problema, è un problema anche perché non vuole discutere nell'Europa né l'Euro, ma io non inseguo Renzi, me ne frego di quello che dice, gli lascio fare i suoi show e sono in piazza per accogliere migliaia di firme per cancellare la riforma Fornero, quindi la miglior risposta a Renzi saranno i milioni di firme per cancellare la legge Fornero che gli spiattelleremo sulla scrivania.